Grazie La mia risposta? Ciao Matteo, a volte hai 75 kg in questa cittura, Matteo No, 20 di più Ma poi sei di più Secondo io Grazie Adesso il nostro Paolo Animas Me ne vado Allora, vira sulla cittura, se no... Citturador Nooo Allora, me ne vado in cittura Allora, me ne vado in cittura Allora, tieni la maglia che non arriva a cittura Grazie 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 E Michael, per la partecipazione Grazie 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 Nicola, per non passa insu Unica 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 la cosa che era richiesta mancare il suono mancare il suono wow 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 stasera 2, 3, 1 grazie vuoi compagnare grazie